Falso allarme a Camerota, le tracce di caretta caretta segnalate sulla spiaggia di Cala d'Arconte non hanno avuto corrispondenza nella presenza di un nido. Probabile che la tartaruga avvistata nella notte tra sabato e domenica abbia fatto soltanto un primo tentativo di deporre le uova o sia stata disturbata da qualcosa e quindi sia andata via. Chissà che la caretta caretta non torni nelle prossime notti per provare di nuovo a scavare il suo nido. Intanto questa notte una tartaruga è stata avvistata ad Ascea in località Scogliera. I biologi del centro Anton Dorn e della EMPA, l'associazione di volontariato per la protezione animali, saranno sul posto per verificare la presenza delle uova. Valentina Pica, assessore al turismo del comune Asceota intanto ricorda a chiunque si imbatta in tracce di tartaruga o in esemplari di tartaruga di restare a distanza, di non puntare luci o altri segnali contro le caretta caretta che se si vedono disturbate chiaramente tornano in acqua e rinunciano a lasciare le proprie uova in un posto all'apparenza troppo frequentato. Il cilento sempre più si conferma nursery per le tartarughe caretta caretta. Nel 2018 sono nate ben 400 tartarughine da 5 nidi sul litorale di Monte Corice, Pisciotta, Polinuro e Ascea.